Quello sarà per me, scusa, la sedia è per te e quello sarà mio La metric, che cos'è? Vediamo Apri, apri, apri Non, 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 non Grazie a tutti. 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 Io lo so chi è stato. Chi è stato? È venuto Mr. Boo nella nostra casa. Di nuovo Mr. Boo, ma cos'è quella cosa? È sembra che ci abbia portato un regalino. No. Ma che cos'è? Sì, sicuro che sia un regalino, non è che uno scherzo. Non lo so, infatti non toccarla. Ragazzi avete visto qualcosa voi? Magari si è nascosto lui dentro. Cos'è quella roba là? Cosa? Aspetta, 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 calma, calma, calma. Guarda, c'è un altro regalo. Ma sembra un regalo. Questo sembra un regalo. E questo? Questo tappeto nuovo? Questo l'hai preso te. Eh? Non l'hai preso te? Ma non l'ho preso io. Ma mio Dio, ma è bellissimo, ma Mr. Boo. A parte che ha lasciato tutte le lussi, ma prego, tanto le bollette le paghiamo noi. Grazie, è lice accese. Però guarda. Ma è nuovo? È bello questo tappetino. Ma poi questi pacchi? Ma allora, questo è un regalo sicuro, perché guarda c'è il fiocchettino. C'è il fiocchettino. Allora facciamo così. Grazie, Mr. Boo. Facciamo così, guarda, voglio aprire questo qua. Non è che c'è, Mr. Boo. Attento, io busserei prima, perché magari c'è qualcuno. No. No. Ma guarda il mio tappetino è qua. No. Provo a aprire. No, sei sicuro? Mr. Boo. Mr. Boo. Ma Rebi, ma... Ma è una sedia. È una sedia nuova. Oh, mio Dio. C'è una sedia per la nostra postazione al computer? Oh, mio Dio, non ci posso creare. Quindi c'ha regalato. C'ha... C'ha regalato. Non so, magari l'ha rubata qualcuno e ce l'ha portata. Magari ha rubato i soldi in casa di qualcun altro e ce l'ha portata a noi. Comunque, grazie, Mr. Boo. Ci serviva proprio una nuova sedia. Grazie, Mr. Boo. Ma apri questo, Rebi? Proviamo a aprirlo. Quello sarà per me, scusa. La sedia è per te e quello sarà mio. La metrica. Che cos'è? Vediamo. Apriamo. Apri, apri, apri. Io sono troppo curiosa. Vediamo. Ragazzi, secondo voi cosa c'è all'identale, Rebi? Che cavolo è? Ma cos'è? Fa provare. Attento, magari esplode. No, no, no. Vediamo. Ma sembra una radio, una sveglia. Ma... Ma che cavolo è? Forse dovremmo cominciare a fidarci di Mr. Boo se ci fa tutti questi regali. Si può collegare. Adesso aspetta, la provo a collegare un attimo. Ma quindi Mr. Boo ha fatto tutti questi regali, non ci posso credere. Si ha regalato una sedia che questa è ormai era andata. Un nuovo tappetino che è molto più grande e comodo. Grazie mille Mr. Boo. Grazie Mr. Boo, cominciamo a rivalutarti. Allora Mr. Boo, vieni pure a casa nostra quando vuoi e facci tutti i regali che vuoi, ok? Allora, allora, dai. Dai, Molly, st'altra volta dobbiamo lasciare un regalo per Mr. Boo, vero? No, voglielo lasciare. Però dobbiamo lasciare un regalo a Mr. Boo perché Mr. Boo ultimamente è buono con noi. No, ragazzi, non è buono. Cioè, secondo me è buono. Grazie Mr. Boo se ci stai guardando. Ti mandiamo un bacio e mi raccomando vieni a casa nostra quando vuoi e lasciare i regalini, eh? Guarda Rebby, ma è una sveglia, che cavolo è? Ma cos'è questa cosa? Non lo so, si sta caricando. Non lo so, non lo so. Secondo me esplode. No, dai, crediamo in Mr. Boo. Grazie mille allora Mr. Boo per questi regali. Non so che cosa dire Rebby, sono veramente contento. Ehi, ma non si accende questo coso? Io lo voglio vedere. Una bomba, lo sapevo. Lo sapevo che era una bomba. Non è una bomba. È una bomba. È una bomba. Non lo so, c'è un timer, sta per esplodere forse. Mr. Boo, non è che hai fatto finta di regalarci tutto questo e poi ci fai esplodere, vero? Spero proprio di no. Ragazzi, aiutateci. Ma che cavolo è? Ma che... Ma è un pollo. No, ma è un pollo di Minecraft. È una sveglia. È una sveglia, sono le 18.22. Non ci credo, ma ci ha regalato una sveglia, quindi una sveglia. Ha regalato una sveglia, una sveglia, il tappetino. Ragazzi, questo Mr. Boo è fantastico. Allora bisogna rivalutare Mr. Boo. Sì, direi che la prossima volta dobbiamo lasciargli un bel cioccolatino. Vediamo quella sveglia, cos'è fa qualcosa. Proviamo a toccarla. Oh, oh, oh. Era l'ora? No, era il giorno. Era il giorno? Ok, io direi che per ora non la tocchiamo, la studiamo bene in un altro video. Voi ragazzi lasciate un mega mi piace ed iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. Iscrivetevi se non vi siete iscritti e un bacione a Mr. Boo. Grazie per tutti i regali. Ciao. 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 Sì!